La situazione di degrado causata dai rifiutatori del Greco raggiunge anche Palazzo Baronale, a pochi passi dall'ingresso del comune. Le condizioni sono di abbandono totale, con scatoloni di apparecchiature elettroniche gettati, secchi con sacchetti di immondizia all'interno scambiati probabilmente per cassonetti. In quella zona quasi tutte le case sono praticamente piano terra e diventa insopportabile, oltre che insalubre, assistere quotidianamente a questo quadro tragico. Spostandosi di pochi metri assistiamo, come se non bastasse, ad un'altra situazione poco piacevole all'esterno del comando dei vigili urbani. Anche qui lo Stato è di abbandono totale. In questo caso i protagonisti sono i rifiuti incomparanti che mai bastano, più precisamente porte in legno e sedie di ufficio. È indecente che simili depositi illeciti avvengano a pochi passi da luoghi istituzionali, che si presume debbano essere controllati e pattugliati in qualunque ora. Una discarica abusiva all'ombra del municipio è una pessima cartolina dell'amministrazione cittadina e per tutta la cittadinanza.